Affitti non pagati, serve un piano urgente. E sempre in tema di difficoltà, mezzo milione di persone è in arretrato con gli affitti e le associazioni chiedono ulteriori aiuti economici. Prego il servizio. Le associazioni dei landlords e degli inquilini chiedono con urgenza un piano straordinario al cancelliere Sunac per far fronte alla crisi degli affitti arretrati. Con la fine del blocco degli sfratti, infatti, c'è il rischio di vedere migliaia di senza tetto in più dopo i 90.000 disoccupati che hanno già perso casa durante il primo lockdown. Le organizzazioni Big Issue, Crisis, Shelter, Citizen Advice, Joseph Rotary Foundation e Nationwide Building Society chiedono in una lettera ufficiale un intervento straordinario per ripagare i debiti sui affitti arretrati o gli inquilini perderanno la casa e i landlords i loro soldi. Secondo le organizzazioni, sono almeno mezzo milione i cittadini in arretrato con l'affitto e i landlords non resterà che lo sfratto per liberare casa e tentare di recuperare le perdite e sconturare guai finanziari. I risparmi di landlords e inquilini sono infatti agli sgoccioli e quanto fatto finora non è sufficiente a far fronte alla crisi senza ulteriori aiuti. Più il cancelliere aspetterà ad agire, più la crisi degli affitti si farà profonda aumentando i rischi di nuovi senza tetto. Le associazioni chiedono un pacchetto di aiuti per il pagamento degli affitti arretrati così da salvare landlords e inquilini in sofferenza dal marzo scorso. Per il Resolution Foundation serve uno schema di prestiti da 375 milioni per pagare gli affitti arretrati solo in Inghilterra. La situazione peggiorerà con il taglio dell'aumento dell'Universal Credit e la decisione di congelare gli housing benefit a partire d'aprile secondo le associazioni che chiedono uno sforzo ulteriore. Il governo ha fornito altri 180 milioni di sterline ai consuls per supportare le famiglie in difficoltà con la casa ma l'aiuto è a discrezione delle singole autorità locali e ancora insufficiente per far fronte all'aggravarsi della crisi. Se vuoi fare pubblicità su TeleLondra scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430